La vendemmia professore? Certo, è una splendida giornata fresca, ventilata e pure con il sole. Potremmo dire che è una sintesi di quella che è stata questa stagione, che all'inizio ha avuto molte piogge, non ha avuto un grande potenziale di calore e quindi è molto più fresca degli anni precedenti. E l'uva come l'avete trovata? Nel complesso è la solita uva del Marcus, quindi veramente le persone la mangiano finché la vendemmiano, quindi piena carica, piccolissimi problemi di peronospora per le continue piogge di questa primavera, qualche acinellatura, cioè problemi di allegagione dovuti proprio al freddo nel momento della fioritura. Slow Wine, appena detto Marcus, grande vino, è una responsabilità raccoglierla? Beh, è una piacevole responsabilità e questo ci, come dire, conforta nel lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Sapevamo che facevamo un vino che meritava attenzione e adesso che anche la stampa lo ha visto ci spinge ad andare ancora più avanti e a rendere le cose sempre più curate, con sempre maggiore attenzione. Grazie.